Adesso date un colpo per ogni stazione che abbiamo fatto. Dritta, avanzamento, piede dentro o piede fuori. Sempre preso. Vai, su, veloce, 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 fermo. Su, bravo. Vai, su, eccolo lì, fermo, su. Viamo, bravo. Vai, fino avanzamento. Su, 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 eccolo lì. Su, buona, via. Bravo, 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 su, eccola lì. Bravo, 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 su, eccola lì, bravo. Andiamo di là. Su. Ah, Cristo Dio. Dopo ti spiego il motivo. Vai, su, 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 fermo. Vai, ultimo avanzamento. Andiamo, 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 su. Eccolo. Dai, lato, con quelle mani. Su, eccola. Sì. Andiamo, su, 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 fermo. Dai. Su, 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 fermo. Buono, dopo. Questa è una mangiata. Poi. Questa è una mangiata. Non è una mangiata. Questa è una mangiata. Questa è una mangiata. Allora. Sì. Ok Chiamo Chiuso presa andiamo alza bene, vai, su, via, arriva sotto, veloce, ripassa di qua, su, via, su, ultimo, forza, buono, non aspettare la palla, su, non aspettare la palla, la mano davanti, vai, su, vai, su, vai, su, vai, su, vai, su, dai, davanti, su, Ok, avanti, andiamo su, buono, ok, non allargiamo il troppo, certo, strettamente, non si vede, è la pena, è il principio del buone, poi dalla palla, anche quando vai a partire, dopo fai la partita, non so che magari, l'hanno insegnato, no, devo capire, non so, devo capire un'altra, spero un po' più, vai, su, dai, su, via, su, Veloce, andiamo su, dai con quelle mani, non aspettare, non aspettare Greg, cazzo, e dammi bene la palla, andiamo su, via, dai, su, andiamo, passa, passa di là, passa, vieni su, buono, andiamo l'ultimo, andiamo, passa, buono, vai, su, andiamo, via, passa veloce, andiamo, su, forza, dai, passa veloce, andiamo su, bravo, avanzamento, avanzamento, andiamo su, andiamo su, andiamo su, vai, avanzamento, bravo, eccolo qua il ritmo, buono, ok, bravo, va bene, 8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 Però ti ripeto, ha detto per il mio fisico, se riesco, se riesco a capire la piscina. Non so, ma perché non ti danno tassù, avendo un occhio per il centro? Non so, no, ma no, postura normale, postura, postura, oltre al costello, e postura, ok? Poi ognuno ci ha lasciato, ognuno ci ha lasciato, per l'amore di me. Ma non mi ha dato il viso? Va bene, ma bisogna studiare poi la controlla. Adesso, sotto, sotto, esci fuori, raccolta. Sotto, raccolta, e raccolta. Andiamo, andiamo avanti col piede. Andiamo, su, via, su, dai, via, e ritorna là. Andiamo, su, via, su, andiamo, vai, su, via, andiamo, dai, via col posto. Buono, va bene, tre. Andiamo, dico, su, andiamo, su, vai, su, dai, veloce, su. Dai, 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 non fai niente, fai niente, passa il corpo, passa il corpo, è quello lì. Buono, serve proprio per... Ma questo è il movimento, è il movimento. Vediamo delle desche. Vediamo che è sempre l'osso. Davanti, avanti, avanti, avanti il piede, non parallelo. Davanti, la punta verso la porta là. La punta verso la porta là. Va, ecco, ecco, ecco. È il pezzo, è il pezzo, è il pezzo, siamo i su. Bravo, che meglio stai... Anna dei Capelli Rossi pelleva... Andiamo, su, bravo. Devi sparare di più, perché sennò tu stai usando solo la tua apertura. Ti riesci, boom, veloce. Superamore, eh. attaccare l'altra parte del corpo è fondamentale ragazzi questa cosa non c'è il ginocchio qua bisogna richiamare l'altra gamba per andare a spingere senza il stesso lato andiamo su, via, giù basso andiamo, su, via, richiamo perché ti è rimasta sotto la palla anche se rimane sotto tu devi andarti là poi la devi sempre richiamare la gamba capito? andiamo Nico, giù, sotto via, richiamala la gamba, bravo di più, richiamala di più richiamala di più è lì steso non sto l'hai richiamata e te è rimasta qua invece devi richiamarla proprio di più, ancora di più perché devo rientrare là? se io la tengo qui il corpo mi rimane così io invece il corpo lo devo poi riandare e risviluppare tutto devi tirar di più il richiamo c'è stato ma è stato a metà andiamo su, giù, via richiamo, richiamo oh, e dov'è il richiamo? non c'è non c'è no, sai per chi? perché? è da tutta la pasta ma direi che ti devi che stia lavorando con la testa il corpo è così devi richiamare davanti andiamo giù, via, giù via, richiamo eccola là non mi interessa ho esagerato io però per farti capire che c'è da richiamarla giù e poi devi fare i movimenti più veloci però quella è una questione di allenamento andiamo su via, su dai, richiamo a sta gamba già meglio anche se a te è rimasta a metà anche a te sta giù dalla testa andiamo, su, via vai movimento veloce andiamo, su vai ok, sta basso non t'alzare poi non male che avete i fisiconi ragazzi i fisiconi vanno allenati sulla velocità stop, stop fate oppure vi vede, eh oh vi vede l'importante è che uno capisce il problema che fa? mamma mia non lo ricordo guarda, va il pane via, su, via riusci andiamo, fissi mi chiama la metà non è rimasta a metà mi chiama tira di più forte qua si, tira di più la spalla sull'altra va su via, su via 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 vi chiama rimasta a metà vai fai secco il movimento fai su andiamo via sotto in avanzamento andiamo su dai su via sotto in avanzamento dai via su sotto in avanzamento buono via su va bene va bene va bene ci stava ancora facciamo un altro dai su via non far perdere sta palla andiamo su secco sbagliato io dai andiamo su secco dai dai via su secco ancora uno andiamo via su secco buono ok andiamo con la raccolta mi raccomando la raccolta sotto metti bene sto piede non aprirlo troppo ok andiamo su secco dai vedi rimani lì più secco in avanzamento più secco il movimento in diagonale in avanzamento su meglio con i passi vedete esatto meglio con i passi è sempre troppo aperto questo piede vieni più in avanti con la punta andiamo su su vedi che è stretto andiamo allarga sì dai allarga sì allarga sì buono facciamo il doppio facciamo sempre fermo sul posto vieni qua perfetto la vai torna spostamento andiamo fallo bene questo movimento devi partire di là vai andiamo ritorna vai dai perché tocchi il filo fallo bene sto spostamento serve partire di là ritorna di là su in su buono vai di là vai torna di là su secca su secca buono ancora uno andiamo parti di là vai non toccare il filo andiamo buono ok lato opposto parti di qua andiamo torna di là su via spostamento buono vai torna là vai su torna di là andiamo dai su vai là vai su sotto torna di là dai questo spostamento perché perché ti perdi a un certo punto spostamento se come se fosse in porta andiamo su eccolo andiamo su buono stop scupperà guardiamo eh fa tutto dalla parte di qua di qua vai dove è lo stato dietro mettilo bene lì ok salto posizione parata sotto l'altra qual cosa è di qua e dopo con calma ti rialzo ok andiamo giù giù ecco quello visto che c'è la telecamera che io non voglio hai fatto un saltino misero quindi poco carico una palla che si andrà a prenderla indietro salto buh line avanti andiamo giù ehi line avanti perché fai il doppio valzello quando fatti qua perché fai il doppio valzello questo fai guarda tu tu e fatti no buh vea apri e vai sotto apri e vai sotto apri e vai sotto subito vai apri sotto guarda come sei indietro indietro cazzo no vieni avanti dai vieni avanti andiamo su avanti no no vai laterale dai avanti andiamo su avanti già meglio già meglio ancora di più tira quella spalla a sinistra andiamo su andiamo avanti è ancora lì dai là ancora uno forza già avanti eeeh che eeeh che è è l'abbiamo